Ben trovati da Silvia De Sandi al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Un saluto agli amici che ci ascoltano sulle frequenze di Radio Bari. La Puglia, poco competitiva, deve investire di più nelle infrastrutture. Questo è il dato emerso nel Forum Osservatorio Puglia che si è tenuto oggi a Bari. C'era per noi Alessandra Bucci. La Puglia occupa uno degli ultimi posti della classifica nazionale sulla capacità competitiva della pubblica amministrazione, quintultima in Italia e quartultima tra le regioni del Mezzogiorno. Il quadro emerso all'interno del Forum Osservatorio Puglia non è molto confortante. Tra le lacune maggiori del governo pugliese ha conquistarsi un posto in prima fila il gap sul fronte della competitività. Un indice negativo che può essere colmato attraverso il potenziamento della rete infrastrutturale leva fondamentale per agire sulla competitività. Ne è convinto Innocenzo Cipolletta, presidente del gruppo Ferrovie dello Stato. La Puglia ha una dotazione infrastrutturale che è più alta di quella del Mezzogiorno, un po' al di sotto della media nazionale. Non è la situazione peggiore che si trova in Italia, tutt'altro. Ha buona dotazione infrastrutturale in ferrovie e porti, ha minore infrastrutture in strade e altri tipi di infrastrutture. Comunque, essendo una regione lontana dai centri dell'Europa, ha bisogno di infrastrutture moderne. Dal 2005 ad oggi si registra un graduale e costante flusso di uscita di risorse dalla Puglia verso l'esterno senza un corrispottivo flusso in entrata. Questo determina perdita di ricchezza e il cosiddetto buco nella pentola pugliese, una situazione che va invertita, secondo il professore di politica economica Paolo Savona, attraverso la lotta al sommerso e promuovendo un utilizzo efficiente ed efficace della finanza pubblica. I trasferimenti pubblici che sono stati valutati nell'ordine del 14,4% del PIL pugliese sono destinati o a ridursi o a trasformarsi dal settore sociale al settore degli investimenti pubblici. Quindi bisogna trovare delle fonti sostitutive. Quindi anche da questo punto di vista va esaminato il perché il 14% del trasferimento nella regione Puglia di risorse pubbliche non trasmette al reddito e all'occupazione la spinta che dovrebbe trasmettere. E' indagato per disastro ferroviario colposo Domenico Palmitessa il conducente dell'autocisterna piena di olio che ieri è stata travolta da un treno delle ferrovie Bari Nord a un passaggio a livello tra Bitonto e Santo Spirito a nord del capoluogo pugliese. Il nome di Palmitessa è stato iscritto nel registro degli indagati dal PM titolare dell'indagine Francesco Bretone. Secondo alcune testimonianze raccolte dalla polizia l'autocisterna preceduta da altri mezzi ha regolarmente tentato di attraversare il passaggio a livello subito dopo il transito di un treno. Nella zona si è però creato un incolonamento fino a quando dopo circa una decina di secondi le sbarre si sono riabbassate intrappolando il mezzo pesante fino all'arrivo del convoglio che l'ha travolto. Questa ricostruzione dei fatti ora al vaglio degli investigatori che stanno anche verificando l'ipotesi che il conducente dell'autocisterna abbia tentato di attraversare il passaggio a livello mentre le sbarre erano in fase di chiusura. E non è stato ancora identificato l'uomo che nella tarda serata di ieri a bordo di un ciclomotore ha sparato colpi di pistola contro la vetrata di una pizzeria nel quartiere Poggio Franco in via Martin Luther King. Nessuno è rimasto ferito e sul luogo sono intervenuti gli agenti della squadra mobile che hanno avviato le indagini per identificare il responsabile e chiarire la finalità dell'accaduto. Nuovo sopraluogo della CISL nel carcere di Bari. Sentiamo cosa è emerso in questa intervista al segretario nazionale Pompeo Mannone. Mirko Cafaro. Ci sono circa 600 detenuti rispetto a una capienza di circa 300, quindi siamo quasi al doppio della capienza prevista. C'è una carenza di organici significativa, ci sono le strutture, una parte delle strutture, una parte rilevante delle strutture che sono inadeguate. Ci sono delle celle, delle sezioni addirittura non ristrutturate che sono assolutamente invivibili. Quindi questa situazione complessiva, oggettiva di criticità verificabili viene aggravata da una gestione non adeguata dell'istituto poiché risulta che il direttore non è presente e quindi non essendo presente non può gestire l'attività complessa dell'istituto e quando è presente agisce unilateralmente senza il concorso di chi rappresenta il personale. Com'è facile immaginare condizioni come queste all'interno dell'istituto? Se non si trova la collaborazione, la condivisione degli obiettivi e quindi una relazione vera con il personale non si riesce a risolvere le questioni. E' questo che accade all'interno di questo istituto. Addirittura la CISL ha manifestato recentemente nei confronti del direttore. Il direttore ha dato input di andare a controllare, a schedare chi ha manifestato. Qui siamo in una condizione davvero pesantissima. La CISL cosa propone per porre il rimedio anche a medio termine in questa situazione? La CISL proporrà all'amministrazione centrale in questo caso una valutazione oggettiva di merito del comportamento che ho appena denunciato e l'amministrazione però dovrà essere a mio giudizio conseguente rispetto ai problemi che denuncerò. E' cominciato in tarda mattinata il processo nel Tribunale di Bari. I due presunti terroristi della rete informatica di Al-Qaeda. Entrambi gli imputati sono stati arrestati l'11 novembre del 2009 per aver favorito l'immigrazione di cinque clandestini. Un anno fa la magistratura barese ha fatto notificare in cella provvedimenti di arresto per associazione con finalità di terrorismo internazionale, addestramento e arruolamento con finalità terroristiche. I due uomini, secondo i PM Francesca Pirelli e Roberto Rossi, fanno parte di una cellula che avrebbe progettato attentati terroristici in Francia e Inghilterra. Cambiamo decisamente argomento inaugurato oggi a Bari. Il giardino del lavoratore promosso dalla campagna di Legambiente Salva Italia. Ce ne parla Alessandra Bucci. Un giardino non è solo un'area verde. Quando nasce in un quartiere degradato diventa un simbolo di legalità e riscatto sociale. E questa è la valenza del giardino del lavoratore inaugurato oggi in una zona che fino ad un anno fa era un campo abbandonato simbolo del degrado. Da qui inizia la rinascita di una zona fortemente cementificata che può sperare in un quartiere migliore e soprattutto più vivibile. Ma per ora è solo un piccolo passo, come ha sottolineato il sindaco Michele Emiliano. Lo abbiamo fatto peraltro con un metodo di collaborazione tra Legambiente, Comune di Bari che ha espropriato l'area, era un'area privata, alcuni sponsor privati. Quindi abbiamo dato vita ad un esempio di come potremmo fare tante altre cose in città se ci aiutassimo l'un l'altro, se non considerassimo il Comune una specie di bancomat estraneo alle nostre finanze. Il progetto è figlio della campagna nazionale di Legambiente Salva Italia che ha l'obiettivo di recuperare aree in stato di abbandono. L'intervento è stato progettato dagli architetti Vincenzo Bagnato, Alessio De Nicolo e Massimiliano Fiore. Il giardino si estende su 870 metri quasi sui quali, oltre al verde, sono state installate anche gioste per bambini come ci spiega il Presidente di Legambiente Puglia, Francesco Tarantini. Abbiamo riqualificato quest'area mettendo dei giochi, degli alberi, del verde che potrà essere utilizzata dai cittadini. In questa occasione oggi abbiamo chiesto all'amministrazione comunale di puntare di più sulle aree sul verde urbano fruibile perché ricordiamo che Bari nella classifica del nostro ecosistema urbano non è al primo posto come capoluogo dell'Italia meridionale per la mobilità sostenibile ma è agli ultimi posti per verde urbano con soli 2,4 metri quadri per abitante. Continuiamo a parlare di giardini. Il giardino di Piazza Umberto come bene culturale è il titolo della giornata di studio organizzata questa mattina all'Ateneo. Il servizio. Giù le mani dai giardini di Piazza Umberto, corso Cavour e di tutto il quadrilatero del Murattiano. E' la denuncia che si leva dalla giornata di studio organizzata questa mattina all'Ateneo a cura della professoressa Maria Pasculli dal titolo L'Università di Bari e il Verde Pubblico. Un incontro nel quale oltre 30 relatori, esperti di botanica, storia dell'arte, urbanistica, giurisprudenza ed economia hanno sottolineato la necessità di tutelare il patrimonio storico, culturale e architettonico rappresentato dai giardini della città e messo a rischio in particolare dall'ultimo progetto di restyling di Via Sparano. Come ha spiegato ai nostri microfoni la professoressa Pasculli. C'è un progetto di riqualificazione di Via Sparano che tocca anche Piazza Umberto riformulandola nella planimetria, cioè praticamente distruggendo tutti gli alberi e ripiantando nuove alberi mantenendo solamente la fontana e il cavallo come elementi storici, architettonici, scultorei e poi il doppio filare di Lecce. Allora assolutamente questo non è possibile per due motivi. Prima di tutto, questo sia chiaro, che c'è un codice dei beni culturali e del paesaggio che dichiara, cioè leggifera praticamente all'articolo 10 sulla tutela dei beni culturali, al coma 1 e coma 4, dove dice appunto che sono beni culturali tantissime cose, tra cui inserisce viale alberate, ville, piazze e giardini. Dunque sono ipsoiure dal 2004, che è questo codice che si chiama anche codici urbani, che sono protette, ipsoiure, non c'è bisogno neanche che ci sia rivolte alla soprintendenza per i beni architettoni, sono protette. Passiamo alle previsioni del tempo per le prossime ore. Cielo sereno, temperature comprese tra 16 e 24 gradi, venti moderati, mari poco mossi. In chiusura vi ricordo come di consueto i nostri indirizzi internet www.telebari.it e www.radiobari.net Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, a più tardi con l'informazione di Telebari.